Norbert Fer, il presunto killer serbo ancora latitante, da tutti conosciuto come Igor, era vicinissimo alla sua vittima, Davide Fabri, freddato nella serata del primo aprile con un colpo di pistola nel suo bar di Budrio di Bologna. Il colpo è partito a bruciapelo o da una distanza massima di 25 centimetri. Il proiettile è entrato nella parte sinistra del torace di Fabri, con un'inclinazione molto marcata dall'alto verso il basso, da sinistra a destra, per uscire dalla schiena dopo aver dilaniato alcune arterie vitali. Lo scrive Paolo Fais, il medico legale, che ha firmato la consulenza di 52 pagine disposta nell'ambito dell'inchiesta del pubblico ministero Marco Forte. Fabri riuscì dapprima a disarmare l'assalitore, entrato nel bar imbracciando un fucile, ma una volta trascinato in uno stanzino del locale, non ha potuto far nulla dopo il colpo di pistola. Probabilmente l'assassino si trovava di fronte a Fabri, forse uno di loro in piedi, mentre l'altro era più in basso, ma le dinamiche sono ancora tutte da accertare. La consulenza medico legale è un altro tassello che va ad arricchire il fascicolo a carico di Fer, accusato anche dell'omicidio della Guardia Ecologica Volontaria Valerio Verri, sempre in aprile, a pochi giorni dal primo fatto di sangue. A Fer viene attribuito anche l'omicidio del metronotte Salvatore Chianese, ucciso sangue freddo il 30 dicembre 2015, tra Savio e Fosso Viaia, nel Ravennate.